Verdastri, questa era una notizia del 2014, quindi arrivo arrancando alla cosa e recava il titolo Preso enorme ragno di 60 kg a Gioia Taur Non è semplice pensare al fatto che alcuni possano credere a una notizia del genere Però visto il tantam che si è verificato sui social, indubbiamente qualcuno ci crede anche perché queste cose giocano sui grandi numeri, quindi è inevitabile che una persona ma io credo molte di più, caschino nel gioco di condividere vuoi perché è una cazzata secondo loro o vuoi perché ci credono sul serio Ma veniamo all'articolo A Gioia Tauro è stato catturato un esemplare di Taranto Lagolia, Terafosa Blondi e qui almeno usano un nome specifico vero e riscontrabile ovunque Ragno di origine sudamericana, raramente segnalato in Italia Ma se è sudamericano, come si può assegnalare in Italia? Magari perché è scappato un ragno dentro a una teca però non penso che abbia vita lunga con il nostro clima rispetto a quello del Sud America Se lo è trovato davanti un agricoltore gioiese, Guglielmo H Adesso io non conosco i cognomi presenti a Gioia Tauro però un cognome con la H, oddio potrebbe essersi però, boh Mentre si stava recando presso la sua capanna degli attrezzi Sono intervenute tempestivamente le guardie ecozoofile Queste hanno anestetizzato l'animale trasferendolo con un elicottero al polo universitario del Papardo di Messina Dove veterinari e zoologi studieranno il perché di questo inconsueto gigantismo aracanoide Come si può pensare che in Italia si usi l'elicottero per portare un ragno del genere in università? E quindi comunque sarebbero soldi spesi per la ricerca in Italia? Davvero? Non lo so Un grosso spavento per l'anziano imprenditore agricolo Che, appena ripresosi dal principio di infarto, ha così commentato l'accaduto Stavo andando a prendere il concime Quando dalla finestra è uscito quel mostruoso ragno Un ragno di 60 kg, ricordo Gli ho lanciato la zappa, ma è come rimbalzata sul suo corpo Per fortuna mio figlio Peppe, grande Peppe Ha mantenuto la calma ed è riuscito a chiamare il pronto intervento Non dimenticherò mai, ha proseguito il signor Guglielmo Lo spaventoso sibilo che usciva dalla bocca di quell'essere Qui siamo veramente arrivati a un film di serie Z Gigantismo aracnoide Zappa che rimbalza sull'essere Sibilo che esce dalla bocca E poi leggiamo Il telafosa blondi è il più grosso ragno del mondo Spiega il naturalista napoletano Danilo Baragozzo Il corpo misura fino a 150 cm Sapete quanti sono 150 cm? Un metro e mezzo di ragno E poi ci sono le zampe I 150 cm sono solo del corpo Non è il leg span Quindi non so che razza di roba sia In totale può arrivare al peso di almeno 60 kg Sono proprio i particolari Che contribuiscono a rendere verosimile la storia E a dare un'apparvenza di autorevolezza Però il nome di questo naturalista Non è riscontrabile sul web Cercandolo su Google e su Facebook Su Facebook non ho trovato nulla Su Google si trova il nome di questo naturalista In molti altri siti Sempre con questo articolo E sono siti di dubbia attendibilità Come si faccia a dare attendibilità E soprattutto autorità A un naturalista che parla di un ragno di 60 kg Proprio non riesco a capirlo 60 kg sono decisamente troppi per un ragno Come anche i 150 cm di dimensione del corpo Io credo che non esistano nemmeno fossili Di questa grandezza per un ragno E perché poi dovrebbe essere spuntato proprio in Italia? Io l'avrei visto più un essere da America Cina, Giappone, Asia comunque Dopo magari un esperimento nucleare segreto Cosa che potrebbe piacere tantissimo ai complottisti In effetti questa è una di quelle notizie inquietanti Adatte ad essere scritte in quel tacquino Di cui sono dotati i complottisti amanti delle conversazioni E che tengono nel taschino per essere pronto a tirare fuori in caso di conversazione Ho concluso Verdastri Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra opinione nei commenti Mentre io continuo a cercare altre notizie Che non sono conformi all'intelligenza umana Noi ci sentiamo sui social Che trovate sempre in descrizione E ci vediamo alla prossima puntata Che spunterà quando sarete diventati ancora più verdi L'articolo comincia così E' arrivato sulle nostre coste dall'Africa Sicuramente agevolato dai continui sbarchi L'insetto più velenoso al mondo Che rischia di distruggere un intero ecosistema E che ha già mietuto le prime vittime